Sì, sarebbe bellissimo adesso andare a sbambierare il cugino. Ma questo lo farà anche Paolo, solo Paolo può fare. Tu c'è lì Bruno, c'è la mostra di Cervi. Non è questo che ci porti molto giusto. Adesso è la prima cosa vedere Bruno. Adesso c'è la scuola di Cervi. Facci da l'altro stupore di Cervi. Dunque non dobbiamo vedere Bruno là. Da dove? Ma certo, la prima di lui è venire. Ma certo, non veniva così. Ma è lui stesso che lo dice. Sì, lo dice Bruno, la frase. No, si è vero, si è vero, si è vero. Ma è una volta, la prima volta. E anche quando veniva, c'è la morte, c'è la morte, c'è la morte. No, non si può capire. Da adesso credo che non si metteranno anche pagare per voi. Ma non credo, no. Ma che cosa non funziona di cosa. Non solo sarebbe una scena di colpa, ma sarebbe anche quel farci voltare. Cioè, a quel punto non abbiamo nessun interesse a tenere la bocca in giusto. Certo. Beh, l'importante che non vengano a prendere la bocca in giusto. L'importante che non vengano a prendere la bocca in giusto. Io? Sì. No, ma sarebbe io. Ma cosa si sta facendo? Sì. Sai che, io sono il primo anello. Capita? Perché tanto è il primo anello che viene in mezzo io. Siamo niente a saltare il primo anello, a cento della bocca in giusto. E intanto... Non sai come siamo d'accordo tutti. Intanto andiamo avanti con la loro. Dico che non corre le risposte di giugno perché siamo noi stronti. Diciamo che dobbiamo ruolo. No. E lì non c'è veramente nessun interesse. Non ci sono scontanti. Quindi non potranno, potranno mai essere provata la corruzione. Sì. Potranno dire che hanno pagato molto cara l'ingegneria, che non è neanche proprio caramente cara, ma non potranno mai dire che c'è stata corruzione. La sostanza poi è quella. Il fatto che il senso finale è iniziario. Certo. Vedere che se un ruolo è massato... Per essere iniziato a giudizio, è iniziario. Ma per essere condannato ci vogliono delle prove. Non basta. No, no. Prove iniziari. No, no. Prove iniziari. Però uno deve dimostrare se uno ha ammazzato qualcuno. Non basta che... Cioè, se non c'è neanche il cadavere, come è fatto a dimostrare... Cioè, ho l'impressione che potrebbe avere ammazzato qualcuno. Ma quando trovi il rizzo della Brugliera... Ha capito? Ma se non c'è il morto? Cioè, qui non c'è né il corromto né il corruttore. Cioè, ci deve essere un corpo del reato da qualche parte. E allora ci si cade... E' intattati lì i fondi degli affetti. E' intattati lì, io so, cazzo mia, dove li ho messi? Non li ho messi. Non li ho messi. No, non li ho messi. Ne sono sparati i ballerini champagne. E' tutt'altro il champagne. E' quindi... E' quindi... Però... 10-15 milioni di euro di ballerini champagne. I ballerini champagne. E io li ho messi. Poi, quanto è tutto... Devo dimostrare che li ho presi io, eh? Dato che avevamo le istruzioni... Noi... Ci siamo sperperati. Abbiamo sperperato i soldi. Non abbiamo pagato nessuno. Ci potranno dire che fiscalmente siamo... Bene, non abbiamo pagato le tasse, credo. E io lo vi faccio. E io andiamo poi... E io andiamo poi sotto, si andiamo a cavocati. Sì, sì. Ti altri soldi non ci scrutifichiamo. Perché faccio il giro, non vogliamo dire voi, eh? Se io gli ho detto che l'opera è... Allora, l'infini morì tutti. e quando arriva la rogatoria Morisius. Andiamo con la rogatoria Morisius, questo è il tempo. Prima di fare la rogatoria Morisius, devono capire che sono finiti a Morisius. Per capire che sono finiti a Morisius, devono prima fare la rogatoria prima solitana. Poi sulla pomesia, poi probabilmente tra dieci anni, non devo fare scuola rottorio perché non si interviano. No, giudici di anni, per arrivare a Morisius devono fare scuola rottorio. Si stanno collaborando, si stanno collaborando. Stanno collaborando, formalmente, perché formalmente ci vuole la rogatoria. Inoltre, tutti gli italiani, se si fornano i piedi, anche con tutto l'espo, e poi dire che mandavano Morisius, e ha un sogno detente. Ma quando succedono i rischi, non si vanno avanti. Se avvicinare i rischi a queste morte. E Bruno per scorrere i rischi, perché proprio tu non ero il corretto? Lui, comunque, già da mesi, tutta la documentazione dove c'è il nome Augusto Weston, è sparita dall'ufficio. Dove riguardare i contratti che abbiamo in questa corte. non è stato un'altra parte, non è un'altra parte. Non è un'altra parte, non è un'altra parte. Ma io in casa, tutto ciò che stanno sicurando, perché nessuno non abbia, se ne vediamo, che si stanno in andando. Grazie.